In attesa di capire le reali intenzioni di Renzo Rosso, i tifosi bassanesi questa sera saranno ascoltati dal sindaco Poletto e dall'assessore allo sport Oscar Mazzocchin. Insieme proveranno a capire come muoversi per tentare in ogni modo di salvare i colori giallorossi. Dal vertice tra primo cittadino e mister Diesel è trapelato ancora poco e con la corsa per il Vicenza, tutt'altro che chiusa, si fatica ad immaginare il futuro. Dopo tutto l'offerta di RR potrebbe non essere accolta e allora i tifosi si chiedono se valga davvero la pena contestare con forza l'operato della società o attendere che le nebbie si diradono e dimostrare per ora solo l'attaccamento ai colori giallorossi. Intanto anche la FIGC in queste ore fa sapere di aver preso con sorpresa la notizia di una possibile fusione fra Bassano e Vicenza. Bassano ha una storia di 115 anni e quindi secondo me si dovrebbe un po' rivalutare oppure rivedere questo programma di fusione tra le due società. Non si può disperdere un patrimonio importante come quello di Bassano dove non stiamo parlando solo di atleti ma di dirigenti che sono il cuore pulsante non solo del calcio professionistico ma di tutto il calcio dilettantistico. A Vicenza continuano le mosse per vincere quella che pare ormai una vera e propria partita a scacchi. C'è tempo fino al 28 maggio per presentare una nuova offerta e tanto la cordata veneta ancora in buona parte peraltro misteriosa quanto il gruppo francese Football Ital France hanno manifestato il loro interesse. Staremo a vedere ancora dieci giorni e sapremo cosa sarà dell'ane e di conseguenza anche del soccer team.